Molti di voi non sono venuti alla presentazione di Entropia Genetica insieme a Carlo Alberto Costano. Ecco qua il libro di John Sanford. È un qualcosa di molto importante perché sconvolge le conoscenze sulla genetica che fino ad oggi avevamo a causa della teoria di Darwin e dell'evoluzionismo. Questo testo è fondamentale per capire cosa è realmente il DNA e cosa è realmente l'informazione dentro al codice genetico. È consigliato a tutti. Non è complicato, anche se si hanno poche conoscenze in ambito genetico, questo testo è fatto per tutti. Soprattutto è molto interessante arrivare alla fine per capire cosa succederà all'uomo. Per dirvi soltanto due informazioni sul libro. È stato presentato tutto lo studio che qua è rissunto presso la Cornell University, una delle cinque università più importanti al mondo, dove ancora oggi stanno facendo studi particolari su quanto John Sanford e altri ricercatori anti-evoluzionisti stanno scoprendo. Non è complicato ordinarlo. Voi andate su il sito origini.info e avrete nell'arco di brevissimo tempo questo testo fondamentale. Molte persone commentano la teoria di Darwin senza nemmeno conoscere la stessa e pensano che le teorie anti-evoluzioniste siano assolutamente errate in quanto prima di tutto non conoscono l'evoluzionismo e secondariamente non conoscono cosa dice la teoria anti-evoluzionista e quanto John Sanford ha dichiarato. Allora, io vi invito a venirlo a conoscere, acquistare questo libro, comprendere realmente cosa dice la teoria di Darwin e cosa dice la genetica e dopo commentare espressamente e realmente cosa ci aspetta per il nostro futuro. Grazie.